Un incremento pazzesco di acquirenti, spaccio di droga, quindi grandi assembramenti, file davanti casa dei noti spacciatori di droga della zona. Poi ci sono balordi, delinquenti, criminali, colletti bianchi, persone che urinano il giorno davanti a tutti quanti, sugli androni delle scale potete immaginare, si drogano davanti ai cittadini onesti. È uno scenario a dir poco inquietante quello dipinto dal vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, che torna a puntare il dito contro la micro delinquenza. Pettinari commenta gli intensi controlli degli ultimi giorni nel quartiere pescarese di Rancitelli, così lo spaccio si sposta altrove, dice il pentastellato. Ci sono due o tre piazze principali dello spaccio di droga su Pescara, se c'è la pressione su un punto, in questo momento sul ferro di cavallo, si sta spostando tutto qui in via Caduti per servizio Fontanelle, dove ci troviamo oggi, che qui ha vissuto la stagione degli attentati. Tanti anni fa qui iniziarono a bruciare le macchine. E Pettinari continua a chiedere i presidi fissi di polizia e i militari dell'operazione Strade Sicure, così da controllare 24 ore al giorno i quartieri popolari e reprimere eventuali spacciatori, tossicodipendenti e urinatori selvaggi. Unità fisse di polizia, unità H24 con l'ausilio anche dei militari, almeno nelle tre piazze principali, via Caduti per servizio, Fontanelle, Ferro di cavallo, via Rigopiano, che possano presidiare H24, quindi fisse, unità che passano e poi magari ripassano dopo due o tre ore, questo non serve a niente. Ma militarizzare questi luoghi non rischia a sua volta di spostare il problema in altri posti? No, perché questi sono posti periferici. Nella periferia si annida la delinquenza, la criminalità molto spesso. Qui vivono, quindi se tu blocchi l'abitazione, l'alloggio popolare, loro non hanno la possibilità di andare in altri posti, loro vanno nelle case popolari.